I miei nonni facevano già questo mestiere, erano già allevatori sia il nonno materno che il nonno paterno e io ho voluto ricominciare questa attività. Così parlava del suo lavoro, la sua passione Jean-Pierre Agliot in un video realizzato per Col Diretti nel 2021 quando era arrivato fra i tre finalisti regionali premiato nella categoria Creatività agli Oscar Green di Piemonte e Valle d'Aosta. 38 anni di Bruisson, è morto ieri Alparini dove era ricoverato in coma in rianimazione. C'era finito giovedì scorso per un incidente, stava tagliando delle piante in un terreno di famiglia quando sarebbe caduto battendo la testa. A Exrepiera nella frazione di Bruisson dove è cresciuto aveva deciso di riprendere l'attività allargandola con una nuova azienda agricola dove allevava bovini da latte e da carne. E proprio con una piccola parte della sua produzione di latte aveva deciso insieme alla compagna di creare un gelato a chilometri zero in vendita d'estate in Val d'Aias. Oggi perdiamo una persona importante in un periodo in cui il ricambio generazionale per gli imprenditori è difficile, commenta la presidente Col Diretti Valle d'Aosta Alessia Gontier, ma soprattutto una grande persona sempre pronta a mettersi in gioco. La comunità è sconvolta da questa notizia, dice il sindaco di Bruisson, Danilo Grivon, era molto attivo nella vita del paese, un gran lavoratore e una persona di cuore. Jean-Pierre Alliot lascia la compagna e due figli. Per tutti gli accertamenti del caso, la procura di Aosta ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato né indagati.